di nuovo buonasera e bentornati in diretta per primo cittadino oggi con il sindaco di ferminiano emmanuele feduzza a cui do subito il benvenuto bentornato nei nostri studi sindaco grazie mille simona benvenuta grazie soprattutto a voi di fan tv e ai vostri telespettatori buonasera tutti e ricordiamo i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un messaggio meglio se su whatsapp al 338 49 68 250 sindaco oggi le marche purtroppo ritornano in zona arancione come abbiamo sentito anche nel corso del nostro telegiornale il presidente acquaroli le ha definite come un accanimento ideologico ingiustificato e dannoso per quanto riguarda la percezione da parte della gente lei visto che anche farmacista che cosa ne pensa il covi dall intanto la morsa questa zona arancione può avere ripercussioni anche economiche beh personalmente penso no come sindaco in questo caso lo dico eviterei qualsiasi polemica no a livello statale più che altro partirei con un confronto no eventualmente per cambiare i parametri anche perché come dicevi tu simona in questi giorni specialmente in questa settimana sono calati anche il numero di tamponi io lo vedo io stesso appunto da questo punto di vista come professione e sono chiaramente anche calati il numero di positivi che riscontriamo quotidianamente ad esempio con il tampone antigenico rapido in farmacia no se penso a poche settimane fa dove trovavamo decine e decine di persone ogni volta che facevamo i tamponi di positivi adesso in questi giorni sono calati in maniera drastica fortunatamente però purtroppo chiaramente come sono stati calcolati i parametri come ancora sono le regole vigenti purtroppo dobbiamo accettarla questa zona arancione magari si doveva prevenire praticamente per evitare di andare in zona arancione dovevano essere fatti tutte quelle attività prodromiche appunto per evitarlo però detto ciò è chiaro che può avere una piccola ripercussione economica però dobbiamo affrontarla anche con ottimismo dobbiamo cercare di uscire nel prima possibile quindi mi auguro che la politica più alti livelli possa anche uscire farci uscire prima attraverso appunto tutte quelle azioni necessarie per evitarla e per poterci permettere appunto che duri il meno possibile in diversi comuni appunto a proposito di ottimismo si inizia anche a organizzare qualche evento per la prossima stagione estiva soprattutto anche se qualcosa in forma ristretta voi pensate di riprogrammare un po' eventi lutici piuttosto che culturali certo certo assolutamente anche perché dobbiamo pensare insomma anche quello che sarà no perché dovremo imparare comunque sia conviverci ormai sono due anni questo ormai la terza stagione terzo inverno che stiamo affrontando appunto insieme al covid e ovviamente dobbiamo iniziare a conviverci ma soprattutto dobbiamo iniziare a programmare una serie di attività come dicevi tu no simone dobbiamo ripartire questo dovrà essere appunto no da parte di tutti non ha detto anche il presidente mattarella ma che dovrà essere appunto l'anno della ripartenza anche noi ci siamo messi in moto no abbiamo in questi giorni abbiamo già incontrato diverse associazioni nelle prossime settimane incontreremo tutte le associazioni che normalmente durante il periodo estivo e fanno attività nel nostro territorio e soprattutto la settimana scorsa abbiamo avuto anche l'incontro con la nostra pro loco appunto per riprogrammare la manifestazione principe della nostra città che appunto il torneo storico paglio della rana che manca appunto da due edizioni no mi auguro appunto che questo anno nel 2022 si possa finalmente poter ritornare ritornare a rifarlo ma soprattutto si possa ritornare a quei bellissimi momenti di aggregazione che appunto si facevano nel nostro torneo parlio storico della rana dove c'era anche del sanno sfottò tra i vari contradaioli che portava ad unire la nostra comunità in maniera particolare è vero allora passiamo ai lavori pubblici perché fermignano è un cantiere aperto con l'inaugurazione del campetto un po' allivalente vediamo anche in questo caso la locandina di via pergolesi avete dato un po' il via al piano di lavori previsto previsti nel territorio comunale sì esatto questa è l'ultima inaugurazione che abbiamo fatto un paio di settimane fa insieme al ragazzi del basket fermignano appunto abbiamo inaugurato il campo di polivalente di via pergolesi via tiziano perché appunto posizionato in un angolo aveva necessità di restauro tanti volontari nei vari anni appunto si erano alternati per poter far sì che il manto si mantenesse ma purtroppo negli ultimi periodi si era deteriorato in maniera molto importante l'anno scorso anzi nel 2021 appunto con il bilancio 2021 abbiamo deciso di affrontare una spesa di circa 70 mila euro che ci ha permesso di rimetterlo completamente a nuovo è stato rifatto completamente sono state ad esempio innalzate anche i binder quindi il sottofondo è stato alzato di 10 centimetri sono state rifatte tutte le reti intorno chiaramente rifatto il fondo per poter giocare e questa è una nuova struttura è una struttura che al centro di un quartiere il quartiere della pieve che in questo momento in un'ottica di riqualificazione perché insieme chiaramente a questa attività di riqualificazione del campetto polivalente i prossimi giorni dovrebbero partire il 15 di febbraio i lavori anche di rifacimento di tutta la pubblica illuminazione di quel quartiere quindi in realtà siamo partiti da qui per arrivare poi anche a riqualificare completamente il quartiere con il rifacimento di tutta la pubblica illuminazione led. Tant'è che dopo 30 anni si è messo mano anche alla zona dell'ex l'area quindi insomma anche lì è attaccato che è proprio di accente e che in questo momento appunto come dicevi tu Simona si sta facendo praticamente i lavori finali sostanzialmente di riqualificazione di tutta quell'area dove appunto il ricordere un bambino c'era una fabbrica che purtroppo era fallita adesso è trasformata una parte in un supermercato e l'altra parte dietro le case finalmente la proprietà ha deciso di investire le ha terminate praticamente sta terminando e ha dato veramente un tocco diverso completo al quartiere. Il costo dell'intervento per il campetto? 70 mila euro l'intervento del campetto e circa 60 mila euro sono le luci che verranno montate tutte all'interno del quartiere perché verrà rifatto appunto questo relamping quindi la riqualificazione dalle classiche luci gialle che sono sodio ad alta pressione a led che sono le classiche luci bianche. A Calpino invece dopo gli asfalti proseguono spediti i lavori per la scuola? Assolutamente sì sono molto orgoglioso come ne siamo orgogliosi tutti i fermiglianesi perché appunto creare una scuola nuova da 5 milioni e mezzo di euro di intervento non è una cosa da poco questo appunto quello che vedi tu è il primo palo di fondazione che è stato messo la settimana scorsa praticamente i lavori stanno procedendo in maniera molto spedita venerdì è stato gettato la parte di fondamenta della parte dove verrà costruita la direzione didattica ci saranno oltre 250 pali di fondazione si sta procedendo al ritmo di oltre 12-13 al giorno quindi si sta andando molto molto spediti fortunatamente abbiamo un'azienda che si impegna davvero tanto come i progettisti a seguire anche il progetto perché ogni giorno i progettisti sono sul campo come tutti i ragazzi che lavorano dell'azienda sono veramente tanti sono veramente dei grandissimi professionisti quello che vedi è un palo che sono circa 17 metri di profondità quindi verrà bene ancorata a terra appunto questa scuola e sarà e siamo molto orgogliosi perché appunto sarà una scuola come ci siamo diritti già tante volte veramente innovativa quindi all'avanguardia e ci voleva anche nel vostro comune poi soprattutto ci ha permesso di risolvere dei problemi importanti perché da due plessi ne andiamo a formare uno andiamo a togliere praticamente tantissimo traffico dal centro storico dove era praticamente posizionata la scuola che è attualmente presente in via Carducci con una via a senso unico dove tu pensa che solo lì ci sono circa 300 bambini devi pensare quindi di conseguenza che vengono messi in una via a senso unico quindi c'è una forte difficoltà di parcheggio e così altro e l'altra scuola la scuola di Calpino è una scuola che si trova nella via principale di Fermignano quindi ogni volta che si apre o si chiude la scuola non nel giorno quindi alla mattina alle 8 oppure in questo caso Calpino a tempo pieno quindi che finisce nel pomeriggio si deve quasi chiudere la strada si ferma il traffico sostanzialmente quindi invece qui i ragazzi saranno in una zona dove sia anche l'asilo la scuola dell'infanzia accanto quindi sarà non altro che una prosecuzione naturale avranno una scuola dove avranno la possibilità di avere grandissime quantità di parcheggi una viabilità ottima soprattutto consona per poter ospitare cose altre persone una struttura sicura, una struttura moderna perché praticamente avremo una struttura che si chiama Enzeb quindi una struttura autosufficiente da un punto di vista energetico quindi sarà tutta alimentata attraverso pannelli fotovoltaici, pannelli solari termici avremo il sistema di recupero delle acque, avranno un campo da basket, da pallavolo avranno una palestra, avranno addirittura la pista d'atletica, l'orto botanico, la serra quindi ogni classe avrà il proprio giardino avranno poi una biblioteca itinerante che partirà dall'ingresso dove c'è la direzione didattica e terminerà nell'altra via e fa conto che da porta a porta sono 95 metri quindi avremo i Bideli, i prossimi Bideli potranno sfidare Jacobs alle prossime Olimpiadi di Parigi è anche un bel percorso formativo con tutto quello che offrirà la scuola è stata studiata insieme all'Università di Cipro attraverso un progetto europeo quindi di conseguenza avrà anche la dotazione oltre che tecnologica anche pedagogica innovativa non certamente come la scuola attuale che è degli anni 50 e quindi di conseguenza è nata e concepita negli anni 50 quindi con tutte le pecche e con tutte chiaramente purtroppo evolve la materia sia da un punto di vista edilizio perché chiaramente anche da un punto di vista strutturale si è evoluto in maniera enorme, soprattutto la parte sismica e chiaramente anche da un punto di vista pedagogico perché ad esempio le nostre aule si possono aprire a due a due, cioè quindi hanno dei muri a scomparsa praticamente le classi si potranno unire, se passano nel corridoio ci saranno delle vetrate quindi i bambini che passano nel corridoio potranno vedere le classi all'interno se uno la guarda dall'alto la nuova scuola rappresenta Fermignano perché Fermignano è un corso, una piazza, un corso con una piazza finale che è dove c'è la torre se noi la guardiamo dall'alto la nuova scuola è così stilizzata Fantastico, quasi voglio ritornare a scuola, quasi Aspettiamo un'inaugurazione sicuramente Eh sì, e ci saremo Invece per il Nido avete ricevuto dei finanziamenti? Allora per il Nido abbiamo ricevuto un finanziamento molto importante di quasi 900 mila euro 896 mila, ma stiamo studiando un progetto ulteriore in questi giorni scadrà il 28 di febbraio la prima trance di bandi del PNRR riguardante l'edilizia scolastica stiamo facendo una doppia valutazione, cioè quella la possibilità di progettare una demolizione e ricostruzione del Nido presente e della scuola dell'infanzia quindi due progetti in realtà completamente innovativi che ci permetterebbero di fare oltre che chiaramente due nuove scuole sicure cioè quindi un Nido è una scuola dell'infanzia ma soprattutto anche all'avanguardia da un punto di vista sia tecnologico sia soprattutto della sicurezza quindi stiamo camminando su un doppio binario perché il finanziamento già l'abbiamo ottenuto per quanto riguarda il Nido ma stiamo anche progettando la candidatura per la demolizione e ricostruzione di un Nido completamente nuovo quindi vedremo quali dei due porterà prima arriverà prima in fondo e se avremo la possibilità di accedere al finanziamento della demolizione e ricostruzione abbandoneremo quello che abbiamo ottenuto di quasi un milione di euro per poter demolire e costruire una struttura completamente nuova E certo, è un conto, è magari rivedere gli spazi un conto, poterla fare da capo E ridisegnarli, ridisegnarli anche in queste case il Nido nostro è nato intorno alla fine degli anni Ottanta intorno agli anni Ottanta chiaramente è stato concepito e strutturalmente è nato in quella maniera con quegli anni ovviamente l'idea è quella di creare come abbiamo fatto per la scuola nuova ci abbiamo creduto e ci abbiamo lavorato veramente tanto anche qui stiamo lavorando in questi giorni proprio per dare alla luce questo nuovo progetto sia del Nido, sia della scuola dell'infanzia per poter fare quindi due nuove scuole basandosi sui fondi del PNRR A proposito di fondi, ne arriveranno 50.000 dalla Regione Marche anche qui potranno aiutarvi per alcuni progetti Sì esatto, è notizia che l'ho letta anche io nel giornale Noi giorni scorsi All'ha letta direttamente? All'ha letta direttamente nel giornale anche io però al di là di questo sono contento perché comunque si ci permetterà di sistemare di parzialmente perché chiaramente per quanto riguarda San Silvestro il campo polivalente abbiamo fatto una stima ci vogliono più del doppio in questo momento del finanziamento rispetto a quello che abbiamo ottenuto abbiamo già un'idea, un progetto quasi preliminare per poter riqualificare appunto questo campo polivalente che è presente in questa frazione per quanto riguarda invece praticamente l'ex campo sportivo e lì abbiamo l'idea di un progetto molto più ampio certamente con i 20.000 euro che ci sono stati segnati non potremmo andare molto lontani però magari possono essere soldi che possono essere utilizzati per la base progettuale per iniziare praticamente a fare uno studio vero e proprio anche perché è un'area molto importante è un'area di 10.000 metri quadri proprio all'interno della città che dagli anni 70 non è mai stato fatto un progetto vero e proprio anche magari a step non è mai stato programmato vero niente tranne che un progetto che ha fatto un'associazione che può essere quello lì, quel progetto può essere la base di partenza per sviluppare quindi poi un progetto che possa permettere di fare questo area verde che abbiamo di 10.000 metri quadri appunto accanto alla torre che possa essere un anello di congiunzione della città possa essere un punto recreativo quello che stiamo studiando e stiamo provando a vedere anche con i vari bandi del PNRR se avremo la possibilità di accesso e magari questi 20.000 euro sicuramente ci possono aiutare almeno per pagare la base progettuale e basi progettuali che servono anche per il dopo di noi? sì, il dopo di noi è una struttura importantissima all'interno della nostra città anche questo si trova a San Silvestro, è appunto un residenziale per portatori di handicap grave lì la regione ci ha concesso 5.000 euro di finanziamento che potranno essere investiti all'interno della struttura per poter fare magari alcune piccole opere di cui ne abbiamo necessità Lavori al furlo, proprio nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo d'intesa e si spera che per l'estate le attività possano ripartire? Io ho fatto un appello accurato ancora pochi giorni fa in un'altra emittente televisiva appunto dove chiedevamo appunto di poter accelerare il più possibile questa burocrazia che ci attanaglia da un anno, sostanzialmente è un anno che il furlo purtroppo è chiuso siamo arrivati, il progetto esecutivo è stato fatto finalmente siamo arrivati a questo protocollo d'intesa che è tardato quasi due mesi è tardato, finalmente ci siamo abbiamo già fatto un sopralluogo due mercoledì fa con l'azienda che farà poi i lavori quindi già siamo molto avanti anche rispetto al protocollo d'intesa nei prossimi giorni verrà fatto un secondo e un terzo sopralluogo quindi un sopralluogo che durerà almeno 2-3 giorni per poter studiare le varie vie per poter arrivare a fare la riqualificazione completa appunto di questo massimo ma non solo perché in realtà è una parete rocciosa più dopo ci sono da fare altri lavori perché l'importo lavoro complessivo sono 400.000 euro che permetterà però finalmente di mettere in sicurezza tutta quest'area e mi auguro come ho detto sia ad Enel come ho detto anche alla Regione che si possa arrivare alla fine, ai lavori il prima possibile perché una delle stagioni più importanti per il furlo è la primavera ovviamente poi adesso che magari ripartono anche le attività la gente ha voglia di uscire ha voglia di uscire e il furlo poi si presta il furlo è un luogo per antonomasia per poter fare le passeggiate per poter fare una passeggiata anche in bicicletta oppure a piedi o fare del trekking e appunto poterlo fare in sicurezza come il progetto prevede mi auguro che tra lavori per messistica e tutto quanto si possa arrivare nei primi di maggio al massimo fine aprile, primi di maggio a poter riaprire questa strada certamente il tempo ci deve dare una mano perché i rocciatori dovranno salire a 200 metri di quota rispetto al piano strada e insomma non è una cosa proprio così semplice come magari qualcuno può pensare ripeto l'importo a lavori è notevole perché sono 400 mila euro quindi non è uno scherzo perché ne ho lette tante sia nella stampa sia in social l'ironia purtroppo a volte si è anche sprecata però in realtà è stato un lavoro veramente difficile perché abbiamo dovuto mettere d'accordo 12 enti è un lavoro per mettere insieme anche dal punto di vista burocratico non solo è un lavoro che sfinisce e poi dopo c'è stato chiaramente anche un braccio di ferro quindi di conseguenza tra chi pagava alla fine praticamente siamo arrivati a questo protocollo di inteso dove anche l'amministrazione comunale e anche l'amministrazione provinciale oltre alla regione hanno messo tasca i propri bilanci per poter far sì che ok facciamo i lavori facciamo i lavori il prima possibile mettiamo anche noi del nostro contribuiamo anche noi nonostante non fosse la nostra la parite ma noi la strada fosse solo il comune di Fermiano ha soltanto la strada come proprietà che subiva il danno in realtà però abbiamo messo tasca il nostro bilancio pur di poter aprire il prima possibile questa via Flaminia e soprattutto poter ridare la possibilità alla gente di fruire del furlo prima di andare in pubblicità si parla da qualche anno in più invece della ferrovia Fanno Rubino e lì forse è un dibattito quasi infinito è un dibattito che non finirà mai io personalmente sono stato più volte schierato e lo sono schierato per una ciclabile quindi di conseguenza sono sull'idea che se debba essere fatta la Fanno Rubino ma non nel tracciato attuale perché ci sono tanti motivi Fermiano viene tagliata a metà esattamente da questa linea e mi auguro che smetta di essere un dibattito da campagna elettorale perché ad ogni campagna elettorale viene resumata quindi ci avremo a breve alle politiche esatto a breve no partirà la campagna elettorale delle politiche perché il prossimo anno ci saranno e sicuramente riuscirà di nuovo mi auguro che si possa finalmente decidere definitivamente che cosa fare e mi auguro soprattutto che possa essere finalmente riqualificata da noi dagli anni Ottanta appunto è stata chiusa che questa ferrovia è lasciata lì dimenticata ed è diventata soltanto un luogo di rovi piante e alberi dimenticato Una domanda per lei Sindaco si riuscirà a fare la rotonda in cima via Falasconi la Turbino angolo IMAB perché si verificano molti incidenti l'incrocio è pericoloso Assolutamente sì in realtà prenderà luce dovrebbe prendere luce inizio estate perché abbiamo già fermato il protocollo con ANAS che era quello che in realtà ci ostacolava in questi giorni partiranno le procedure è già stato fatto il progetto esecutivo è già stato approvato da ANAS che l'ha finanziato da noi dovranno partire alcune procedure tecniche da parte del Comune per poter spettare nel più breve tempo possibile appunto alcuni accorgimenti da un punto di vista tecnico burocratico che dobbiamo fare e da quello appunto delle interlocuzioni fatte con ANAS dovrebbero partire i lavori in estate non solo lì perché il protocollo di intesa che abbiamo firmato con ANAS riguarda sia la rotonda di via Falasconi sia la rotonda di via Mazzini con l'intersezione davanti all'ex consorzio agraria di Fermignano quindi la rotonda che porterebbe ad Urbagna entrambe sono entrate nel finanziamento d'ANAS sono state ripeto entrambe progettate esecutivamente siamo alle fasi finali della parte burocratica e poi partiranno i lavori bene quindi in giro di? un'aura nel più breve tempo possibile perché sono l'entrata est e l'entrata ovest della nostra città e appunto come veniva segnalato sono due punti veramente pericolosi allora abbiamo tanto altro di cui parlare fognatura, illuminazione pubblica, peste ciclabili ma ci fermiamo per qualche istante bene siamo in diretta con il sindaco di Fermignano Emanuele avete puntato sempre sullo sport Nella scorsa puntata abbiamo parlato di crossodromo di palestra da karate, stadio quali sono le novità? Allora abbiamo come detto te abbiamo puntato tanto nel primo mandato abbiamo investito 3 milioni e mezzo di euro soltanto sulle strutture sportive adesso tanto di più dovremo fare anche nel secondo mandato quello che la novità che ti posso dire Simone è questa che giovedì sera inaugureremo il rifacimento della caldaia degli spogliatoi dello stadio centrale dello stadio comunale dopo diversi anni appunto è stata rifatta completamente tutto l'impianto della caldaia e sono stati fatti riscaldamenti all'interno degli spogliatoi ma soprattutto la caldaia è una novità nel senso che verrà alimentata anche con la filosofia che abbiamo instaurato che abbiamo soprattutto portato all'interno dell'amministrazione cioè quello di essere più green possibili siamo riusciti a fare praticamente una caldaia oltre che innovativa con il fatto di doppia condensazione che più ne ha più ne metta anche chiaramente tutta alimentata tramite pannelli termico solari quindi di conseguenza permetterà anche un risparmio notevole alla società che appunto gestisce il nostro stadio ma soprattutto permetterà di dare una svolta ancora più green nei confronti rispetto dell'ambiente maggiore e permetterà di dare soprattutto un'efficienza maggiore perché la caldaia che siamo riusciti a comprare e ad acquistare sono circa 60.000 euro di intervento che è stato fatto nella pausa di Natale in modo tale che non venissero anche danneggiati gli allenamenti dei ragazzi quindi i ragazzi si potessero allenare comunque sia in maniera continuativa senza avere esatto con i tempi giusti è stato fatto tutto quanto con i tempi giusti ci ha permesso di appunto dare finalmente una risposta dopo diversi anni di richiesta da parte della società Fermiano Calcio che appunto gestisce lo stadio insieme a questo abbiamo sfruttato la pausa natalizia anche per riqualificare una parte del parquet del palazzetto dello sport che aveva purtroppo la famosa grandinata del 2017 ancora ha portato dei residui ha provocato praticamente delle piccole cripe all'interno del parquet in alcune aree praticamente del palasport e quindi sono state risistemate praticamente queste aree del parquet sono state risistemate nella pausa invernale quindi due lavori importanti uno di un'entità medio alta l'altro di un'entità chiaramente più piccolina ma che hanno permesso di riqualificare le nostre strutture ora il prossimo passo sono appunto come dicevi tu prima il crossodromo stiamo aspettando in questo momento il decreto insieme al punto al motocross fermignano che è il motoclub fermignanese scusa che gestisce il crossodromo alla ginestra che è un crossodromo che tutti quanti conoscono gli amanti dei motori ma soprattutto uno dei crossodromi dell'elite che preferisce Valentino dove viene sempre Valentino ad allenarsi insieme a tutto il gruppo della VR46 appunto lì stiamo aspettando il decreto finale quindi che per il finanziamento che abbiamo ottenuto nel mese di settembre è per poter riqualificare completamente tutta la struttura del crossodromo e dare veramente una struttura di serie A anche lì avremo una struttura sempre rispettosa dell'ambiente perché sarà una struttura Enzeb una struttura quindi a consumo zero da un punto di vista energetico una struttura che grazie al presidente quindi in questo caso Michele Di Lorenzi tutta la sua staff è diventata una tra i principali crossodromi del centro Italia insomma trasporti e servizi educativi ci sono dei progetti veramente grandi e importanti eh sì poi adesso abbiamo anche una struttura una sala polivalente che dovrà finalmente vedere alla luce dopo tanta burocrazia ne parlavo anche i giorni scorsi con il presidente dell'Auser locale di Fermignano con insieme a tutto il suo consiglio di direttivo siamo arrivati lì anche alla fine di questa burocrazia che è veramente eh a volte asfissiante per quanto riguarda le amministrazioni soprattutto quando si parla di bandi no? si parla soprattutto di bandi di tipo europeo quello che abbiamo chiesto anche al presidente Acquaroli per quanto riguarda i POR è quello di diminuire la burocrazia abbiamo in questo caso una struttura che dovrà partire anche qui a Brive è una struttura di quasi 400 metri quadri per una sala polivalente che mancava nella nostra città parzialmente finanziata attraverso un progetto europeo ma la burocrazia che abbiamo dovuto fare potremmo far riempire questa stanza piena di carta e non basterebbe probabilmente e siamo nel 2022 e siamo nel 2022 un telespettatore ci scrive ho sentito più progetti dal sindaco Feduzzi in 30 minuti che in tre anni da tutti i sindaci della Valle del Metauro complimenti sindaco insomma quello che dicevo prima sono veramente tanti progetti ma concreti di qualità importanti innovativi quindi un grande lavoro dietro di tutta la squadra tra l'altro dove muovere la foto che l'ha pubblicato a fine dicembre dove fa sempre un po' il resoconto fa il bilancio di quello che è un lavoro di squadra il lavoro è un lavoro come dicevi te Simone è un lavoro corale questa qui è tutta la mia squadra che mi ha accompagnato anche in questa campagna elettorale che è terminata poco più di tre mesi fa e che mi accompagna e che mi accompagna quotidianamente soprattutto che mi sopporta perché i miei colleghi di giunta lo possono testimoniare voglio dire io mando un messaggio a qualsiasi ora del giorno e della notte perché ovviamente si cerca di sfruttare ogni momento libero anche della professione per poter far sì che si possano portare servizi e progetti e risultati esatto noi siamo partiti io ricordo sei anni fa quando siamo partiti con l'ufficio Europa c'era qualcuno ancora ricordo gli articoli dell'opposizione della ex opposizione che ci definivano frazioni di Pesaro perché appunto avevamo deciso di fare l'ufficio Europa come era stato fatto anche a Pesaro e in realtà ci ha portato benefici perché in cinque anni di amministrazione avevamo raccolto quasi 13 milioni di euro e quindi di conseguenza considerando che il bilancio del comune è 8 milioni e mezzo vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro un lavoro egregio che è un lavoro di squadra io lo dico e devo dire grazie a tutti i ragazzi chiaramente del mio staff che lavorano quotidianamente con me ma soprattutto anche ai miei dirigenti e tutti i ragazzi che lavorano quotidianamente nel comune di Fermignano e quindi siete stati lungimiranti in quel senso anche perché poi prendere esempio da quello che fanno altre città comunque noi dobbiamo guardare gli altri e cercare di portarlo nella nostra realtà io dico sempre questo ma siamo con ad esempio questa cosa dell'ufficio Europa noi siamo partiti come antisignani all'interno della nostra valle siamo partiti però ci ha portato abbiamo fatto da traino anche nei confronti degli altri colleghi e questo ha permesso vedevo ieri guardavo una nota stampa che anche il comune di Fossombrone se non mi sbaglio aprirà un ufficio Europa insieme ad altri comuni Isola del Piano esatto ma anche noi noi lavoriamo in collaborazione con tutti gli altri colleghi della mia valle dell'alta valle del Metauro quindi in realtà era una cosa da fare da fare forse prima noi ci siamo arrivati sei anni fa io sono arrivato poco meno di sei anni fa quando ci siamo arrivati abbiamo subito deciso di formare soprattutto il personale perché chiaramente fare progetti europei vuol dire tantissima formazione costante io penso in questo momento noi abbiamo Ilaria che è una ragazza che lavora appunto per noi lei fa la spola tra l'Italia e l'Olanda appunto perché lavora anche per una consociata olandese dove quindi ci permette di fare tanti anche una parte bidirezionale e ci permette di fare tanta formazione non ultimo Simone ti posso dire anche questo c'era una nota stampa questa mattina dove Fermignano ha avuto per la prima volta vinto anche un progetto diretto insieme all'Università d'Urbino per un progetto internazionale un progetto europeo per quanto riguarda i migranti le persone che vengono dall'estero e la coesione sociale e Fermignano appunto è stato anche qui è stato avanti insieme all'Università d'Urbino insieme al professore Eduardo Barberis e insieme a Otman Yassin che è uno dei miei consiglieri hanno lavorato e siamo stati vincitori di questo bando diretto abbiamo avuto i risultati ancora poche settimane fa e oggi è uscito per la prima volta nella stampa dove Fermignano appunto è stato preso come caso d'esempio praticamente per quanto riguarda la coesione sociale praticamente in tutta Europa però e quindi che cosa succede? quindi faremo praticamente avremo una serie di convegnistica avremo praticamente tutta una serie di attività fatte insieme all'Università che sono nate tutte tre anni fa poco prima del Covid insieme alla carta dei sindaci che era una carta per l'inclusione sociale dell'area euro-mediterranea che ha coinvolto oltre 40 comuni provenienti da tutta Europa e da gran parte del centro Italia e che hanno permesso di mettere insieme tante buone prassi che poi sono state riportate in questo progetto europeo che è stato finanziato adesso dall'Unione Europea e ha preso appunto Fermignano come una delle best practice diciamo dell'Unione Europea ti dirò di più a settembre è uscita una pubblicazione da parte della commissione che è una cosa annuale che viene fatta come buone pratiche della coesione sociale e queste cose e Fermignano era tra Londra e Parigi però siamo rimasti veramente stupi dalla carta ai fatti concreti siamo rimasti veramente stupi infatti questo è un lavoro che ha seguito in prima persona Otman Yassin che è un mio consigliere che devo dire la verità su questa cosa si sta impegnando tanto e ha portato degli ottimi risultati illuminazione pubblica e asfalti ci sono dei progetti succederà qualcosa nei prossimi mesi lavori in programma assolutamente sì anche qui abbiamo vinto un bando europeo che ci permetterà di riqualificare gran parte della pubblica illuminazione della nostra città quindi tutta la dorsale centrale quella di via Falasconi che arriva fino al cimitero tutta la parte di Calpino e praticamente via Marti Luther King che sarebbe la via dorsale principale della nostra città verrà completamente riqualificata attraverso una pubblica illuminazione completamente nuova in questi giorni partirà come dicevo prima anche l'impianto di illuminazione a led della zona della Pieve sono terminati poco tempo fa ancora i lavori di riqualificazione di Cavanzino che ha portato anche alla creazione di un marciapiede che ha riqualificato completamente l'area in questi giorni stiamo facendo un nuovo impianto fognario di San Silvestro e insieme è una bella risposta assolutamente a te da tempo esatto ti spiego anche insieme a quello stiamo buttando le basi anche del nuovo impianto di illuminazione di San Silvestro quindi abbiamo fatto un lavoro doppio cioè all'interno dello stesso scavo siamo riusciti a fare insieme ai progettisti praticamente anche lo spazio senza dover rompere la strada due volte oltre al sistema fognario anche le basi per il nuovo impianto di illuminazione di un'area che ne aveva necessità perché oltre al sistema fognario perché voglio ricordare che San Silvestro è una frazione di oltre 500 abitanti che per anni ha chiesto di fare il sistema fognario perché scaricava purtroppo ancora nel fiume scaricava nel fiume Metauro finalmente insieme a Marche Multiservizi e insieme alla disponibilità del presidente di Ato quindi di Marco Ciccolini siamo arrivati finalmente a collegare il sistema fognario di questa frazione importante a quello di Muraglione che era poco distante in questi giorni si stanno facendo i lavori hanno portato anche la luce dei resti importanti soprattutto nella frazione di Muraglione dei resti dell'epoca romana hanno permesso di portare la luce a questi lavori e che comunque sia ci permetterà di evitare che questa frazione così importante della nostra città purtroppo scarichi ancora nel fiume Metauro una curiosità spero che non succeda come a Fano che poi questi resti vengano ricoperti no no c'è già la sovrintendenza che è intervenuta ovviamente è nel comune di Urbaglia il resto i resti che sono stati trovati perché l'area dove è stato fatto appunto è un'area importante però certamente mi auguro che possa essere resi visitabile nel futuro andiamo avanti con le foto che chiedo alla regia di far vedere perché Fermignano è anche una città cardioprotetta e anche questa è una notizia delle scorse settimane ma sicuramente è fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti i cittadini sì Fermignano già da tre anni abbiamo iniziato il percorso della città cardioprotetta in collaborazione con la Croce Rossa di Fermignano qui ad esempio c'è Giada una delle ragazze delle formatrici della Croce Rossa di Fermignano appunto sono tre anni che lavoriamo appunto questo progetto e ha permesso l'installazione di diversi defibrillatori non ultimo un paio di settimane fa la Croce Rossa ha donato tre defibrillatori che sono stati installati nelle nostre scuole in questo caso nel nido nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di Fermignano e insieme a questo ovviamente in maniera parallela viene avviata la formazione tutti gli anni noi facciamo in collaborazione con la Croce Rossa ad esempio ai nuovi genitori il corso di formazione sulla disostruzione pediatrica su uno sicuro tutte le manovre di RCP e lo facciamo poi come corsi di aggiornamento alle varie maestre alle varie insegnanti educatrici del nido e anche della scuola dell'infanzia chi è che vuole quest'anno abbiamo fatto anche un percorso formativo negli insegnanti nel personale ATA e nel personale di segreteria dell'istituto comprensivo Bramante quindi abbiamo fatto un buon lavoro e penso a Simone in questi tre anni nonostante ci sia stata anche una pandemia di mezzo abbiamo formato oltre 70 persone laiche chiamate laiche che possono utilizzare eventualmente i fibrillatori presenti nel nostro territorio perché ne abbiamo diversi libri come ci sono anche qui a Fano ovviamente ma che ci ha permesso di fare praticamente la prima città cardioprotetta del nostro introterra una bellissima iniziativa assolutamente sì anche perché purtroppo ancora la prima causa di morte è appunto l'infarto e quindi di conseguenza le mattie cardiache la tempestività vale tutto cioè è su tutto quindi di conseguenza pensiamo che ogni minuto che passa il 10% meno di probabilità di vita chi ha queste possibilità nella nostra città si ha questa possibilità di avere questi fibrillatori dislocati all'interno delle varie frazioni o all'interno del centro della città o che altro e sono tutti ad esempio con il GPS quindi di conseguenza anche i fibrillatori sono tutti quanti ben tracciati anche da parte della centrale operativa ci permette di avere una città all'avanguardia Sindaco siamo in chiusura le volevo chiedere però perché abbiamo citato tanti progetti c'è uno in particolare fra questi a cui è particolarmente affezionato di cui è orgoglioso perché insomma anche il lavoro è tanto poi dietro perché alla fine i cittadini sanno del risultato finale però non conoscono tutto quello che c'è dietro quindi il lavoro che viene svolto da lei dagli uffici dagli assessori anche il reperimento dei finanziamenti assolutamente il lavoro per poter arrivare a far nascere un progetto a portarlo in un cantiere è lunghissimo si parte veramente dallo studio fino ad arrivare poi dopo alla vera progettazione ai bandi che sono veramente complicati uno magari può essere uno schiocco di vita e in realtà se tu puoi pensare solo questo sulla scuola nuova che è il progetto che veramente mi rende orgoglioso perché comunque sia costruire una scuola è gettare le basi per il futuro vuol dire comunque sia dare la possibilità ai miei concittadini di avere una struttura non solo sicura all'avanguardia ma di avere praticamente quel luogo quel granaio della cultura che possa essere le basi della nostra città per il futuro e quello mi rende veramente orgoglioso perché insieme a Luca Storoni che è il mio architetto che è anche il mio capo ufficio tecnico insieme a tutti i ragazzi della giunta Alessandro Fiorella Arturo prima adesso Monica Ubaldo che altro l'abbiamo proprio voluto l'abbiamo desiderato l'abbiamo studiato ci abbiamo lottato io ho girato quasi mezza Italia per poter studiare gli altri progetti insieme a Storoni insieme a prima segretario Volpini abbiamo girato mezza Italia per capire come avevano costruito le altre scuole e tu pensa Simone che c'era chi è che ha lottato ricordo per far sì che questa non si costruisse ha fatto di tutto ha fatto però io penso che a provare sui cavilli è stata una cosa veramente brutta da parte di qualcuno che faceva parte una volta dell'opposizione è un peccato anche per prescindere il politico dovrebbe lavorare per il bene nella città però questo mi rende veramente orgogliosa è il progetto che mi ha reso più orgoglioso io sono andato insieme a Sturoni piegavamo la mattina presto praticamente i progetti per poterli consegnare in regione perché era un bando che attraverso il piano edilizia scolastica 18-20 abbiamo avuto questo finanziamento ricordo praticamente alla mattina presto poter chiudere questi progetti perché eravamo ovviamente come sempre in ritardo l'ultimo secondo oppure accompagnare a Dubaldo che è andato a Cipro per poter studiare questo progetto insieme all'Università di Cipro accompagnarlo all'aereo con la speranza che ritornasse con tante buone notizie da fornire ai progettisti quindi questo è il progetto veramente che mi rende orgoglioso e che penso che renda orgoglioso tutti i cittadini fermianesi a proposito di progetti in programma le chiedono una casa di riposo un centro di urno per malati di Alzheimer ci stiamo lavorando abbiamo già preso contatto l'avevo già promesso praticamente anche nella mia ultima campagna elettorale ed è dovrà essere l'obiettivo primario di questo quinquennio ci stiamo lavorando stiamo lavorando anche con un'azienda privata abbiamo già preso abbiamo fatto i primi colloqui prima di Natale in questo momento si sta facendo uno studio di fattibilità stiamo guardando quali finanze poter utilizzare e da investire in modo tale che si possa praticamente anche qui arrivare a dare una risposta Fermiano purtroppo è l'unica città dell'entroterra a non avere una casa di riposo oppure una struttura diurna come diceva la domanda che ti è stata fatta per malati di Alzheimer o comunque sia con demenze senili che purtroppo progrediscono e ce ne sono tantissime ce ne sono dobbiamo darne una risposta questo è un impegno che mi sono preso in questo inizio di quinquennio e voglio finire questo mio mandato appunto con questo obiettivo primario da centrare Sindaco grazie per essere stato con noi e per averci raccontato di tutti questi progetti ma anche di retroscena perché si raccontano anche fin troppo poco grazie mille a te Simone e grazie a Fanno TV grazie anche a Cristiana Guerra Riccardo Sora in regia e a tutti voi per averci seguito l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con Massimo Fughetti che leggerà insieme a voi quotidiani arrivederci grazie grazie a tutti